Sono soddisfatto della settimana che la squadra ha svolto. C'è una piacevole notizia, che è quella di Crecco, che iniziamo a portarlo con noi. Sicuramente è ancora lontano dalla miglior condizione, ma è il primo passo verso una normalizzazione che vogliamo dargli e che lui deve trovare. Sappiamo che il Foggia ha qualche difficoltà, ma ha dei punti di forza da non sottovalutare. Ha un attacco con diverse possibilità, potrebbe giocare con un sistema piuttosto che con un altro, quindi dobbiamo preparare più soluzioni difensive, in base a come loro giocheranno, con il dovuto rispetto, sapendo che poi dobbiamo mettere in campo la giusta personalità in un ambiente tra i più caldi, credo, della categoria. Quindi lo Zaccheria, secondo me, sarà infuocato per noi domani. Ci sarà anche l'assenza del nostro pubblico, che è per noi un fattore determinante, però alla fine siamo 11 contro 11 sul campo. Quindi, al di là della spinta che sicuramente i giocatori di Boscaglia riceveranno dal proprio pubblico, poi dovremo essere veramente bravi, avere la giusta personalità, il giusto coraggio per fare la nostra partita. Ci sono sviluppi su Plizzari e delle Monache? A oggi, a ora, ancora no. Stiamo aspettando, vediamo. Oggi, per esempio, sì, forse più su Plizzari che su delle Monache. Credo che ci sia più apertura per Alessandro che per Marco. Se sarà a disposizione giocherà? Credo che sia doveroso, anche perché se c'è questa concessione da parte del Club Italia è quasi un obbligo metterlo in campo. Mi dispiacerebbe per Daniele Sommariva, però è chiaro che poi bisogna andare, cioè anche sotto un aspetto politico, bisogna comunque capire, Daniele dovrà purtroppo capire, se dovesse succedere una cosa del genere, che tipo di scelta è stata fatta. L'abbiamo sempre chiesto, l'ho sempre chiesto ai miei attaccanti di essere i primi difensori. Mai come in una partita del genere, dove troveremo una squadra con spiccate doti offensive di pericolosità, bisogna stare molto attenti. E quando sale il livello, vedi Corotone, anche i piccoli dettagli poi fanno delle grandi differenze.